comandante buonasera come va quest'anno a che cosa vi siete dedicate e che motivi gli avete assegnato a questo presepio sto iniziando a fare lo chiamiamo dietro al molo dietro al molo dove c'è l'hotel vittoria con tutta l'incastellatura quindi l'ascensore del vitore i famosi monageli perfetto e piano cresce e questo è l'ingresso della chiesa vede la chiesetta riprodotte no e questi pesciolini dentro ci sono pure i pesciolini la grotta in fondo c'è da passare un bel po di tempo invitiamo tutti i cittadini della penisola sorrentina e non solo comandante a venire a vedere la festa di santa barbara bellissima come la statua di santa barbara come si svolgerà tutta la capitana riga carabinieri vengono tutte le autorità una bella messa a che ora ci sta appuntamento a domani 4 dicembre giorno di santa barbara a marina piccola con il comandante di leva per celebrare e festeggiare partecipando c'è a 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